Tre senzori alcali stanno per fare una valanga di soldi, ci sono tre senzori alcali che grazie a un transito molto favorevole di pianeti stanno per fare davvero una valanga di soldi, stanno per diventare ricchi, stanno per ottenere tanti tanti risultati questi senzori alcali che stanno per fare una valanga di soldi, che stanno per diventare ricchi proprio grazie a vincite sono il senzo dacale dello scorpione, per gli amici dello scorpione è giunto il momento di lauti guadagni tanti benefici da questo punto di vista e poi ci sono gli amici del cancro, anche per il cancro è giunto il momento di dire basta alla sfortuna nei soldi, si apriranno veramente tante possibilità, tante chance di vincere, guadagnare avere tanti tanti soldi nelle loro tasche e poi parliamo degli amici della bilancia, anche per la bilancia si stanno aprendo un periodo di periodi veramente fortunati dal punto di vista dei soldi, metti un like con l'abbonamento base, segui tutti i miei seminari, ciao a tutti